Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti qui in biblioteca per questo nuovo appuntamento di questa lunga rassegna del Festival dei Popoli e delle Culture. Lascio subito la parola, entriamo subito nel vivo, all'assessora Laura Valli che ci spiega un po' il senso di questa appunto grande manifestazione che stasera segna una bella tappa importante. Prego Laura. Grazie Erman, buon pomeriggio a tutte e a tutti e un caloroso bentornato, non benvenuto a Marco Aime che già un paio d'anni fa è stato nostro graditissimo ospite in occasione della rassegna di divulgazione scientifica Scienza Ultima Frontiera, organizzata e curata come anche la giornata di oggi dalla nostra biblioteca civica. Grazie quindi di essere di nuovo qui con noi e grazie a tutti coloro, non li enumero perché sono davvero tanti che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa e le altre che nel corso del mese di maggio si dipaneranno in vari luoghi della città. Lo diceva Ermanno prima, è una giornata speciale quella di oggi che stasera si concluderà con la presentazione dell'ultimo libro di Marco Aime e che oggi pomeriggio inaugura sia due bellissime mostre, quella allestita qui in sala conferenze e quella allestita in galleria. Inaugura queste due bellissime mostre ma inaugura anche l'intenso, gioioso e colorato mese di maggio del Festival dei Popoli e delle Culture con il quale Brugherio racconterà ancora una volta la bellezza della convivenza tra chi vive in Italia da sempre, chi ci è arrivato da poco magari lasciando il cuore a migliaia di chilometri di distanza da qui. Il Festival, dicevamo, nato e costruito all'interno del Tavolo delle Culture, coordinato dalle, mi sembra giusto dirlo, splendide persone dell'Ufficio Istruzione e Integrazione, è il frutto maturo del percorso che in tanti anni ha visto coinvolti moltissimi soggetti intorno al tema dell'intercultura. Un tavolo che finalmente si è arricchito del protagonismo di molte persone provenienti da diverse parti del mondo che insieme a tante associazioni, alle scuole, ai servizi comunali piuttosto che a varie realtà del territorio hanno partecipato con entusiasmo, idee e contributi alla costruzione e alla realizzazione del ricco programma di iniziative di questo mese di maggio che nei prossimi giorni vedrà finalmente vedere alla luce una locandina e un volantino dedicato che saranno disponibili in vari luoghi della città, in comune, in biblioteca, sicuramente nelle scuole e anche sul sito istituzionale del comune. Dicevo appunto un tavolo che si è arricchito della partecipazione e del protagonismo anche delle persone straniere, nonché dei richiedenti asilo. D'altra parte non poteva essere che così, dato che come abbiamo voluto intitolare il 12 maggio, la giornata del 12 maggio che è un po' la giornata centrale di questo festival, Il mondo è a Brugherio. Anche questo titolo è un titolo nato da qualcuna delle persone che sono proprio sedute qui tra di noi e che fanno parte del tavolo delle culture a cui naturalmente allarghiamo l'invito a partecipare e comunque a tenersi informati su quello che si fa. Protagonisti di oggi, due mostre e un libro, dicevamo, proposti dalla biblioteca, allestite grazie alla competente e generosa collaborazione dell'Ufficio Cultura da una parte e dei bibliotecari dall'altra. Due mostre che ci faranno compiere un viaggio, un viaggio attraverso storie di cui troppo spesso non sappiamo quasi nulla, nonostante tv, giornali, social ci tengano costantemente informati. La prima mostra, quella allestita in galleria, Afriche, immagini e voci, il soffio degli antenati, proviene direttamente da Palazzo Ducale di Genova e ci propone una settantina di scatti fotografici sui quali non mi soffermo ma che vi garantisco di grande efficacia comunicativa ed emotiva che ci dicono tanto dell'Africa, degli africani ma io credo anche di Marco Aime che poi avrete modo di conoscere. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo ancora una volta oggi, ci siamo visti a Torino un po' di mesi fa e dicevo prima a qualcuno la cosa bella di quando si incontrano, scusatemi questa digressione, non l'avevo neanche scritta, di quando si incontrano persone così è che puoi parlare veramente di tutto. Spesso ci è capitato di parlare del mio lavoro di insegnante, si è parlato di tutto e tranne che del suo lavoro e Marco Aime è uno che ha sempre qualche cosa da dirti di senso e diciamo che di questi tempi incontrare delle persone così che hanno delle parole che danno un senso a quello che tu stai raccontando, ecco è un dono davvero prezioso di cui io faccio tesoro e poi avrete modo di verificarlo di persona. Dicevamo sono una settantina di scatti raccolti da Marco Aime durante circa vent'anni di viaggi in Africa, diciamo come antropologo, come studioso e una mostra che racconta l'Africa con lo sguardo di chi l'ha conosciuta da antropologo ma io credo l'abbia amata da uomo. A ogni foto è abbinato un proverbio della tradizione locale che è come una metafora, come i nostri proverbi, di una saggezza antica che dice quindi qualche cosa anche a noi oggi e ci fa sentire, lo vedrete, lo verificherete, molto meno lontani di quanto pensiamo da quelle terre e da quelle culture. Proverbi che rappresentano le radici della terra e della cultura da cui si proviene quando si fugge da guerre e povertà per cercare di raggiungere ciò che troppe volte diamo per scontato, almeno noi, e cioè la pace, la dignità, la libertà. Un pianeta migrante ci viene invece raccontato dalla seconda mostra, questa allestita in sala conferenze, che proviene dalla fondazione Zavrel di Sarmede, quella che noi conosciamo per la mostra le immagini della fantasia, che accoglie invece testimonianze e suggestioni importantissime per comprendere i percorsi di questa umanità in movimento, dove si affronta la tematica del viaggio sia dal punto di vista del dramma che spesso si consuma nelle traversate, sia sull'importanza, che troppo spesso sottovalutiamo, dei desideri e dei ricordi che queste persone, che ciascuna di queste persone mette nella propria valigia o che si porta nel cuore. Un viaggio che per noi proseguirà stasera con la presentazione, dicevamo prima, dell'ultimo libro di Marco Aime, L'isola del non arrivo, voci da Lampedusa. Frutto di quello che doveva essere una ricerca etnografica nell'isola di Lampedusa ci conduce invece, e con grande sorpresa per tutti, nella molteplicità dei racconti di chi vive da decenni il dramma degli sbarchi, ma che è capace di far prevalere su tutto la solidarietà tipica della gente di mare, da cui noi gente di pianura forse abbiamo ancora molto da imparare. Un viaggio che poi, verso le sette e mezza, prima di proseguire diciamo nei racconti da Lampedusa, passerà dalle immagini e dalle parole delle mostre ai sapori e ai cibi del mondo preparati con amore e con cura dalle donne e dalle volontarie dell'atelier Arcobaleno e dalle donne richiedenti asilo ospiti a Brugherio. Un viaggio che proseguirà ancora sabato pomeriggio, sabato sera, scusate, sempre in biblioteca con laboratori, sapori di nuovo, parole, ricordi, emozioni, altri proverbi raccolti tra i richiedenti asilo ospiti a Brugherio, momenti musicali, momenti di convivialità e continuerà per tutto il mese con incontri di riflessione, spettacoli, concerti, l'amichevole di calcio con squadre da tutto il mondo, pop up, quindi se vedrete in giro per Brugherio questa scritta su questo cuore che rappresenta il mondo, sappiate che si stanno svolgendo le amichevoli di calcio tra le varie squadre del mondo presenti a Brugherio, momenti di feste e di condivisione secondo quel calendario che poi troverete come vi dicevo prima in vari luoghi della città. Nessuno sa dove va, ma solo da dove viene, dice uno dei proverbi che troverete in mostra. Ecco, io credo che sia questo il senso di questa giornata e di tutto il Festival dei Popoli e cioè il richiamo alle nostre radici. E dico nostre consapevole di quello che sto dicendo. Il richiamo alle radici non è ciò che chiude la possibilità dell'incontro, al contrario, nessuno di noi sa dove lo perderà ancora la vita. Ma se sappiamo da dove veniamo, l'incontro con l'altro che ci riconosce e che riconosciamo come diverso ci permette di capire chi siamo. Succede ogni giorno se ci pensiamo bene. È successo quando siamo nati, da quando abbiamo incontrato gli occhi di chi ci ha messi al mondo e siamo diventati un tu, uno per l'altro. Ogni incontro che nella nostra vita ci è capitato ha meglio definito chi siamo, la nostra identità. Non ci ha fatto scordare da dove veniamo, ma sicuramente ci ha resi più ricchi di come eravamo. E se questo vale per le persone, io credo valga anche per le comunità cittadine che, come quella di Brugherio, sono capaci di scommettere sulla ricchezza sulla bellezza della diversità. E grazie a Marco Aime e grazie a voi. Grazie all'assessore Avalli per questa introduzione che ci porta proprio nel cuore di questa iniziativa. Io vorrei semplicemente aiutarvi a immergervi col cuore e la mente, tornando a sette giorni fa in cui a questo tavolo era seduto uno, secondo me, dei più grandi scrittori italiani che è Maurizio De Giovanni. Non so se lo conosci, è un detto giallista, ma è un bravissimo romanziere. E alla domanda sul perché avesse creato un personaggio che ha una caratteristica particolare, cioè lui continua a vedere le persone che sono morte nel momento della loro morte, che è una roba evidentemente funzionale al giallo, lui ha risposto io volevo creare un personaggio che non avesse il telecomando. La gente diceva che vuol dire? Vuol dire questo, voi guardatevi in alto, sono rappresentati oggetti trovati nel canale del Mediterraneo, appartenuti a persone che non sono più vive. Per quanto è possibile sopportare la vista di questi oggetti? Ecco, noi in genere usiamo il telecomando per girare, per cambiare canale, perché questa vista noi la possiamo eliminare. E questo scrittore dice io volevo creare un personaggio che non potesse fare a meno di fare i conti con il dolore del mondo. Per cui ci immergiamo con questa piccola scenografia nella prima delle due mostre, che è Pianeta Migrante. Le do la parola a Claudia Caffagna, volontaria di Servizio Civile, che ci spiegherà il senso di queste tavole che vedete attorno a voi. Prego. Buonasera a tutti, vi presento la prima mostra, Pianeta Migrante. Abbiamo deciso di allestire questa mostra riprendendo il tema generale di entrambe le mostre, ovvero il viaggio e il legame con le radici. È un viaggio anche quello che abbiamo deciso di impostare come percorso e i temi che affrontiamo sono quelli dell'identità, delle radici, del senso del viaggio, della migrazione, del migrante. E quindi uno dei primi dei libri che sono qui esposti, di cui sono esposte le tavole illustrate, Plane Migrant, di Sophie Lamoureau e Amélie Fontaine, è utile per iniziare ad introdurre il tema delle parole che noi usiamo quotidianamente, ma di cui forse non abbiamo ancora compreso appieno il significato. Migrante, profugo, richiedente asilo, quali sono le differenze tra questi termini? Questo libro ci permette di scoprirlo grazie anche alle illustrazioni che lo accompagnano. Abbiamo deciso poi di allestire su questo lato della sala anche la prima storia, quella di Amélie e l'albero. È una storia che viene rappresentata a colori, quindi un messaggio visto dagli occhi di un bambino. Il mondo colorato visto dagli occhi di un bambino che decide di affrontare il tema dell'identità a cavallo tra due culture, attraverso la simbologia dell'albero, che poi potrete ammirare sulle bellissime illustrazioni. È la capacità di creare una nuova identità, di riconfigurare una persona che è in grado di valorizzare il legame con la propria terra di origine, ma di saper trarre qualcosa di nuovo dal paese in cui si è ospitati, accolti o talvolta neanche accolti, ma in cui ci si ritrova a vivere. E quindi creare dei nuovi ricordi da un sapore misto, dolce, amaro, ma che possono essere comunque importanti per la formazione di una persona. Poi la mostra prosegue, su questo lato abbiamo un cambiamento netto per quanto riguarda la scelta cromatica. Su questo lato abbiamo delle altre illustrazioni tratte dal libro Dall'Atlante agli Appennini di Maria Attanasio, illustrato da Francesco Chiacchio, che riprende il titolo del libro di De Amicis, Dagli Appennini alle Ande, Ma al posto di essere un viaggio dall'Italia all'Argentina, diventa un viaggio dal Marocco all'Italia. E qui continuiamo, dallo sguardo della bambina Amali, continuiamo con il tema dell'infanzia, in questo caso del legame con i propri cari. Perché la storia parla di Youssef, di un bambino che decide, poco più che ragazzino, che decide di andare dalla madre, che è andata in Italia per lavorare, per dare una speranza, un futuro alla propria famiglia. Questo bambino non ha più legami, all'inizio ha soltanto poche lettere, poi nemmeno quello. Che cosa succede nella mente di un bambino, di un ragazzino, se dovesse accadere a noi una cosa del genere, ai nostri cari, ai vostri figli, non posso dire i miei figli perché sono troppo giovane. Sono delle tematiche che non siamo abituati forse ad affrontare e l'illustrazione è un mezzo di comunicazione diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, rispetto ai numeri, alle cifre, che ci fanno perdere nella massa l'umanità delle persone. E queste illustrazioni invece ci mettono in contatto con il senso umano e profondo della persona. E arriviamo quindi a quelle che secondo noi sono le tavole più toccanti all'interno di questo percorso, ovvero quelle di Mediterraneo, di Armin Gredder, che sono tratte da un silent book, un libro quindi senza parole. I protagonisti infatti sono le immagini sul carboncino, che hanno questi colori glaciali, il grigio, il blu del Mediterraneo. Sono delle immagini che ritraggono la storia realmente accaduta, documentata da Giovanni Maria Bellu, nel libro I fantasmi di Portopalo. E' una storia che dovete vivere come un'esperienza personale, come un pugno allo stomaco. E' la storia di questi marinai che trovano dei cadaveri nelle reti da pesca. Non aggiungo altro perché penso che le illustrazioni parlino da sé e poi ammirandole potrete essere colpiti dalla durezza e dall'espressività dei volti ritratti. L'ultima parte della mostra abbiamo deciso di unire una parte che non è di Pianeta Migrante, ma che è tratta dalla mostra Da un paese senza nome, di Francisca Ianez, che è un'illustratrice cilena. E abbiamo un pannello con delle figurine. Rappresentano il legame simbolico con la terra e tutto quello che è soggettivo, l'importanza e il valore che noi diamo ai nostri ricordi, ai cari. Anche qui c'è una storia molto interessante che vi invito a leggere accanto al pannello, che poi si ricollega a quella che noi abbiamo deciso di utilizzare come mascot della mostra, che vedrete anche alle spalle, probabilmente vi sarete chiesti che cos'è, che cosa rappresenta, questa balena rossa, che è la tavola con cui vogliamo concludere questo percorso. È una balena rossa e qui invece voglio dirvi due parole sulla storia per poi lasciarvi a una riflessione finale, personale. Ad un bambino è stato chiesto che cosa metteresti nella tua valigia? Devi decidere una sola cosa e una soltanto da portare con te. E lui vuole portare la sua balena, la sua balena grossa rossa. Il problema è che non ci sta nella valigia. Nella valigia ci può stare tutto, un gioco, uno strumento musicale. Esiste un contenitore per qualsiasi cosa, ma per la sua balena grande non esiste. Con uno sforzo di fantasia però il bambino riuscirà a portare la balena nella valigia. E anche qui non vi dico come, se poi sarete interessati ci saranno anche delle visite guidate. Ma la riflessione con cui volevamo lasciarvi è proprio questa. Se oggi da un momento all'altro vi dicessero dovete portare solo una cosa con voi, solo una, voi quale scegliereste e perché? E con questa riflessione, con la nostra balena rossa, che concludo la presentazione alla parte di Pianeta Migrante. Grazie. Grazie a Claudia. E adesso passiamo alla presentazione di una cosa che invece voi non vedete ancora perché la mostra è tutta nella galleria ed è una mostra su una settantina di proverbi africani illustrati con delle fotografie, fotografie di Marco Aime. Io eviterei una presentazione così molto formale, no? Per cui partirei subito con una domanda un po' provocatoria. Ma perché i proverbi? Non è che è una forma, come dire, noi abbiamo la cultura, la filosofia, loro hanno i proverbi. Anche noi abbiamo i proverbi. Vabbè, intanto buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie a tutti gli amici di Brugherio per avermi re-invitato, Laura, Enrique, Armando e tutti gli altri. Allora, perché i proverbi? Perché nei tanti viaggi e soggiorni in Africa, mi sono accorto di come, vabbè, in Africa circola molto la parola e la conversazione. C'è una gran propensione, si parla molto, la gente ama parlare. Ricordo, per esempio, ho soggiornato per molti mesi a Timbuktu, purtroppo, quando si poteva, adesso è impossibile, in Mali, e a volte capitava di passeggiare per la strada e vedere un gruppo di persone sedute che ti chiamavano, no? C'è lo bianco, vieni un po' qua. E io, ovviamente, per cosa? Dice, beh, per chiacchierare un po'. Cioè, è che è un buon motivo, non c'è una ragione, un tema. C'è un detto proprio, proprio il proverbio Timbuktu, che si dice la chiacchiera è importante perché nell'aldilà non c'è. Non so se è vero, però chiacchierare. E perché parlare, conversare, scambiarsi è un investimento in socialità. Quello che per un occidentale viene visto come perdita di tempo, per un africano invece... E molto spesso si usa concludere o rafforzare una frase, ma spesso la conclusione, con un proverbio, no? E quindi il proverbio entra a far parte. Anche qui, oggi lo si usa meno, forse il proverbio appartiene più a una società contadina. Però i proverbi, di fatto, sono importanti perché sono un po' come dire, degli indici di un pensiero condiviso. Quando un proverbio esprime quelli che a volte noi lo diciamo anche in termini negativi, il luogo comune, no? Ma è proprio per questo che funziona. Il proverbio funziona perché tutti lo capiamo. E capiamo il senso. Tant'è vero che a volte di un proverbio talmente condiviso, poi vediamo anche il proverbio, anche una sua specificità che è una formula fissa, che non ho bisogno di finirlo. Cioè, se io dico, beh sì, perché chi va piano, lo sapete tutti cosa vuol dire, va, sai, va, non c'è, oppure tanto va la gatta, non c'è bisogno di finirlo, no? Perché l'abbiamo condiviso. Quindi esprime in fondo un punto di vista di una comunità, di una società. E allora, ecco, che diventa un po' anche un segno, un indice culturale. Attraverso i proverbi possiamo leggere delle attitudini, delle abitudini. E dicevo, ecco, il proverbio funziona proprio come le preghiere e le canzoni. Cioè, deve essere detto esattamente, cioè io non posso dire, ma sì, penso che forse andando piano, ho già rovinato tutto, no? E quindi, te lo devo dire così, anzi, esattamente. Non lo si può sbagliare. Penso che tutti, forse, molti si ricorderanno che anni fa, quando Trappattoni disse, sbagliò clamoroso il proverbio dicendo non dire quel gatto se lei invece era quattro, se lei sa, fece ridere proprio perché sbagliò il proverbio, perché il proverbio deve essere detto così. E quindi, diciamo che un modo per raccontare qualcosa, un piccolo aspetto, ecco, della cultura africana era quello di passare attraverso dei proverbi. Ovviamente ci sono proverbi che funzionano ovunque. Prima Laura cittava, ecco, nessuno sa dove va, ma solo da dove viene lo capiamo tutti. Cioè, è universale. Mentre invece a volte ci sono dei proverbi che è difficile capire perché sono legati a situazioni e funzionano solo se io conosco tutto il contesto. Quindi qui ho cercato anche di, diciamo, di raccogliere quelli che potessero essere comprensibili a tutti. Anche se ora vi racconto un aneddoto divertente perché parlando con un amico svizzero così gli ho citato al volo, sì. Uno dei proverbi che ho detto qui che per quanto voleva fare una cosa che non si è riuscito e ha detto, sì, per quanto veloce possa correre non posso dire al mio sedere di pensare davanti a me. E non l'ha capito. Non lo so, però, se era perché era così lui o perché era svizzero, non voglio dire. Però a me sembrava abbastanza evidente. Quindi funzionano come delle fasi che fanno anche un po' da chiusura di discorso. Posso ancora dire una cosetta? Io ho avuto un'esperienza per me bellissima ma anche divertente. Molti anni fa, proprio in un viaggio in Mali, mi portarono a casa di Ali Farcaturè che è uno dei più grandi musicisti del Mali e dell'Africa, proprio. Un personaggio, un patriarca che è una famiglia allargata. Lui ha girato tutto il mondo, ha inciso un bellissimo disco con Ray Kuder e mi colpiva perché ogni sua frase finiva con un proverbio, no? Sembrava quasi un copione teatrale. In realtà ne aveva per tutte le soluzioni, no? e mi ha fatto capire quanto fosse importante rafforzare un discorso con quella frase che alla fine sintetizza una certa visione del mondo. Io credo che attraverso anche questi, ma non solo quelli africani, ma anche altri, si possa rivedere una certa visione del mondo. Su questo ho una curiosità. In Africa i proverbi sono detti o sono, come dire, recitati, gestualizzati, teatralizzati? Perché spesso per noi i proverbi sono quelli che si dicono stando fermi e quasi seccano lì il discorso. Allora, qui c'è un po', è un discorso forse che si allarga anche al proverbio perché molto spesso un po', anche negli studi antropologici, no? Come sempre si tende un po' a classificare in maniera rigida. Per cui si è sempre detto ciò che, per esempio, in Africa c'è una tradizione orale, no? Mentre qui noi abbiamo una tradizione scritta. Premesso che, anche qui bisognerebbe vedere, perché nei paesi, appunto, come il Mali, così dall'anno 1000 si scrive, ma in arabo. Quindi non è che... Ma a parte quello, il problema è che non è vero che una tradizione è orale. Una tradizione, casomai, è teatrale. Perché nessuno parla senza recitare. Cioè, forse solo i nord europei ci riescono, ma in genere già noi mediterranei tendiamo a usare molto il corpo, quando, lo dico puntualmente, muovo le mani. No, ricordo per esempio una ragazza, è stata una mia allieva, nata da genitori italiani negli Stati Uniti. Lei ha imparato prima l'inglese e l'italiano, che parlava perfettamente, ma mi raccontava come le hanno fatto notare i suoi amici che quando parla italiano gestico e quando parla inglese no. E lei non se ne è mai reso conto. Perché, in effetti, fa parte del... Il linguaggio non è solo la voce o le parole, ma è... Cioè, i francesi fanno molte smorafie con la faccia. Non muovo le mani, ma avete mai notato? I francesi fanno tante cose cose. Quindi ognuno... E io ho visto a Crinina, a vero moltissimo, per esempio, usare, ecco, il corpo, l'espressione. Racconto un po' dell'introduzione del libro. Un episodio che ha avuto anni fa, molti anni fa, all'Università di Torino, venne invitato Amos Tutuola, uno scrittore nigeriano, che aveva scritto un libro bellissimo, pubblicato da Delphi, che si trovava La mia vita nel bosco degli spiriti. Ora, Tutuola è un panettiere, adesso potrebbe essere morto, è un panettiere, che per il suo... così piacere, interesse, ha cominciato a trascrivere quei racconti che lui sentiva da bambino, da ragazzo nei villaggi. In genere, nei villaggi spesso la sera ci si radue, ci si racconta, un po' come da noi nelle veglie, tutti, non c'era televisione, e quindi la gente raccontava. Allora, c'era una serie di persone che lo intervistavano, facevano domande, i quali facevano delle domande molto intellettuali, sulla letteratura, il concetto, e questo qui continua a dire, io faccio il panettiere, cioè poveri, proprio là fuori, da ogni contesto. A un certo punto qualcuno ha avuto l'idea di dare, ha detto, ci racconta una di queste storie. Ecco, è cambiato da così a così, perché in quel momento, lui che tra l'altro parlava un inglese pigeon, quello nigeriano, cioè pressoché quasi incomprensibile, anche a chi sa l'inglese, ma sembrava Dario Fo, cioè riusciva a creare tre, quattro personaggi con un semplice movimento del corpo, cioè tu vedevi un così e così due che dialogavano, faceva un animale, quasi senza capire, ecco, allora lì si capisce tutta la forza della comunicazione, che non è solo fatta di parole, ma è fatta di emozione, di gestualità, di espressività, di modo di dire quelle parole, che sono le stesse, ma ci sono modi diversi. Ecco, lui sapeva raccontare, tutto il resto, se poi i suoi racconti sono finiti in un libro, è una cosa in più, ma la sua forza stava nel raccontare e per esempio è curioso come anche queste tradizioni, questo modo di raccontare, poi possa essere reinterpretato in una chiave contemporanea, per esempio, io l'ho visto in Beneng, in Burkina, ci sono dei gruppi di ragazzi, giovani, spesso studenti, che fanno quello che loro chiamano teatro forum, invece del cine forum, di lontana memoria, quelli segue di Battito, e idee praticamente vanno nei villaggi e recitano delle pièce scritte da loro, che però hanno sempre come soggetto un tema che può essere le mutilazioni genitali femminili, può essere un problema legato all'agricoltura, un problema legato alla corruzione, allora io ricordo di averne visto una bellissima in Burkina, in cui la storia era, c'era un personaggio che faceva il presentatore, un po' una specie di Harley Quinn, avevano costruito una diga, la famiglia che abituava vicino alla diga, piccola diga, bereva l'acqua, e gli altri dicevano non bisogna bere l'acqua della diga, perché è stagna, ti fa male, e questi ovviamente dicevano, Massimo, andate a prendere l'acqua lontano, che noi beviamo quella, era tutto così, un po' intermezzato da musica, poi c'è tutto, c'è un po' un intermezzo così, e rientrano i due della diga, tutti stori, e il tutto recitato tra l'altro in lingua etnica, allora il presentatore comincia a parlare con il pubblico, che era tutto il villaggio seduto in un prato, cioè a dire, ma allora com'è questa ragione? Allora la gente cominciava a intervenire, e gli attori tenevano la loro parte, la loro posizione, ognuno cercando di dare gioco, e credo alle due di notte si era ancora lì a discutere, perché la gente era coinvolta, quindi ecco è curioso come questa tradizione che nasce da un contesto, appunto, orale di villaggio, però viene, può essere ripresa in una chiave anche di sensibilizzazione, e poi per esempio nella tradizione orale africana c'è anche quella dei griot, così vengono chiamati in Africa occidentale, che sono questi cantastorie che recitano, attraverso i quali gli storici sono riusciti a ricostruire delle dinastie o degli eventi fino al 1700, perché hanno la memoria, e oggi per esempio parlando con un caro amico che lui è un gran narratore, gli ha detto ma oggi i griot ci sono? E lui mi ha detto sì, beh prendi Bob Marley, ecco è curioso come Bob Marley venisse letto come uno che raccontava delle storie. Facendo, mettendo le tue foto in mostra tu praticamente lasci che ciascuno guardi l'accostamento, proverbio foto, le interpreti un po' come vuole lui, perché quando un autore mette a disposizione del pubblico le foto ovviamente noi siamo autorizzati a tutte le interpretazioni, però se tu magari ci dici come hai, cioè in che senso, che cosa aggiunge l'immagine, se è una rappresentazione, se è un di più, se è un controcanto, non so come tu sei arrivato ad accostare, poi noi siamo liberi di leggerti come vogliamo, però magari se ci dai un indizio. Sì, Hans e l'Adams, uno dei più grandi fotografi del Novecento, diceva che le foto, ecco forse le foto hanno in comune questo coi proverbi, Hans Hans diceva la foto è come la barzelletta, se la devi spiegare vuol dire che non ha funzionato, no? Per cui ognuno ci vede a quel che ci vuole, cioè io ci ho visto quello che ho voluto vederci, ma non è detto che sia e va bene così. No, allora l'idea è nata così, diciamo da una doppia passione, ecco quella della foto, è una passione, allora premetto, non ho scattato le foto pensando ai proverbi, non è stata un'operazione costruita, ho sempre fotografato perché mi piaceva, ho sempre avuto una passione per la fotografia, fin da ragazzino, quando appunto ho comprato la prima macchina fotografica da degli atleti sovietici, perché cos'è una zia, e quindi l'idea ecco di poter raccontare attraverso le immagini che un po' come il proverbio se ci riescono, sintetizzano un po' un momento. I proverbi sono stati raccolti in una trentina d'anni come le foto, ecco di letture, di ascolto, e allora ho cominciato a vedere se c'erano, allora un po' tutte e due, in alcuni casi la foto, adesso dipende da quale due partiamo, uno è complementare, cioè è didascalico, cioè quasi a volte sembra che la foto rappresenti il proverbio, in altri casi invece ovviamente il proverbio è molto evocativo, riprendo questo qui, ecco nessuno sa da dove va ma solo da dove viene, non è una cosa facile, ma neanche se mi mettessi lì a pensare come cosa fotografare non lo saprei, però quella foto di quel signore sulla prua della barca che va verso il Niger mi dava un'idea un po' di sospensione, dice boh chissà dove va, non c'è nulla se non questo fiume, che prosegue, quindi ho cercato per quanto possibile, poi ovviamente ho dovuto scartare dei proverbi perché non avevo, non ho trovato di immagini, ne avevo anche, ma premesso che ho cercato anche diciamo di selezionare delle immagini che reputavo, questo è un po' ma che è, cioè non dico belle, ma che fossero corrette, ecco una foto mal fatta non la sopporto, vuol dire uno non è obbligato a far vedere le foto, se me le fai vedere fammele vedere belle, cioè poche belle, e e quindi alcuni proverbi sarebbero stati anche belli ma non ci sono stati dentro perché non ho trovato la foto chissà in futuro. Un'altra invece scelta è stata quella del bianco e nero, alcune foto in realtà non sono state scelta in bianco e nero, lo ammetto, ma perché, non perché io abbia nulla contro il colore, devo dire, anzi, ben venga il colore, ma il colore e soprattutto devo dire le foto scelta in Africa hanno un po' un rischio dove la forza del colore finisce per assorbire tutta l'attenzione. Questo accade molto, per esempio, anche in paesi come l'India dove il colore è e soprattutto il colore ti fa vedere tutto come più reale. Noi vediamo colore, il mondo lo vediamo. Il bianco e nero ti obbliga a uno sforzo di traduzione, cioè ti sto dicendo questa non è la realtà, la realtà non è in bianco e nero, quindi è un racconto della realtà e siccome appunto non vogliono essere la realtà perché queste foto anche come percorso se togliessi i proverbi non funzionerebbero così, cioè bisognerebbe ridisegnare e fare altre cose. Non sono peraltro io un fotografo non sono salgado che può permettersi di fare questo Cartier-Bresson altri livelli diciamo che funzionano se c'è e quindi siccome dovevano integrarsi con la frase sotto ecco il bianco e nero ti obbliga a stare davanti quell'attimo di più a rifletterci perché non è così la realtà come la vediamo noi ma è già una trasposizione in un qualcosa che ti dice appunto che non è realtà premesso che ormai per anni si è detto la fotografia riproduce la realtà sappiamo benissimo che la fotografia non riproduce la realtà non più della pittura cioè dipende ogni fotografo sceglie l'inquadratura l'obiettivo il momento senza contare poi in fase di stampa una volta oggi in fase di photoshop si possono fare molte elaborazioni e quindi c'è anche un lavoro che volendo si può fare dopo non è vero che la fotografia è la realtà però ecco diciamo che il bianco e nero se non altro te lo dice subito che non è così la realtà è un racconto bene grazie mi dicono che tu sarai disponibile adesso quando se qualcuno vuole chiederti farti domande forse inutile sì stare qua a rispondere domande adesso abbiamo tutti voglia di vedere le foto se volete ne parliamo però prima l'assessora deve dirti una cosa sì a parte rimanere ancora una volta incantata da quello che ci racconti allora io in realtà metto le mie mani a disposizione di tutti gli organizzatori del festival dei popoli e delle culture che è impossibile numerare tutti donandoti da parte di Brugherio questa maglietta mi hanno detto formato extra large adesso io non ho pop up bello il mondo fatto bellissimo il mondo fatto e questo libretto invece che racconta le attività la storia le iniziative dell'atelier arcobaleno e delle donne delle volontarie che in questo luogo luogo che non è un luogo fisico ma è un luogo che è la nostra città fanno settimanalmente da tantissimi anni a questa parte insieme alla nostra sempre presente colombia l'unica che ho nominato non me ne voglia negli altri grazie